Ciao, sono Valeria. Ciao, sono Roxana. Ciao, sono Paola. Siamo qui oggi per conoscere l'Associazione Casa Amica, partner dell'iniziativa di volontariato La Roche si fa in quattro. L'Associazione nasce quasi ormai 40 anni fa come associazione di volontariato e nasce per rispondere al bisogno di quella che ormai è definita migrazione sanitaria. Mi ha aperto un mondo, un mondo di voglia di fare, un mondo di possibilità e un mondo bello dove esistono ancora persone che si occupano degli altri, soprattutto in condizioni di fragilità. E potermi mettere a giocare con una bambina che comunque ti sorride davanti ad una malattia è la cosa più bella che mi porterò dietro in questa giornata. Vedi la speranza nei loro occhi e la serenità. Vedi che queste persone non sono così tanto afflitte da quello che stanno vivendo, ma questa struttura li permette di viverlo come se fosse una casa, cioè li regala veramente l'aria di casa. Grazie.